Chiudiamo il cerchio con le pietre preziose, l'essenza di segni zodiacali e siamo arrivati ai pesci. Siccome i pesci, secondo l'astrologia contemporanea, sono domicilio non solo di Giove, ma anche e soprattutto di Nettuno, le pietre preziose più adatte a chi è nato sotto questo segno sono quelle che hanno una relazione con le acque, in un certo qual modo. La prima fra tutte è sicuramente la perla, detta anche anticamente margarita, che tuttavia in realtà non è un minerale, ma è una gemma di origine organica, praticamente è il risultato della secrezione di molluschi lamelli branchi, formata da strati concentrici di madre perla. Le leggende invece narrano che sia nata da un lampo, oppure da una goccia di rugiata ascesa dal cielo e penetrata in un'ostrica che era affiorata sulla superficie del mare, dischiudendosi per ricevere appunto il dono divino. Per questo motivo nella tradizione persiana, per esempio simbolo della manifestazione primordiale, associata in ogni tradizione all'acqua e quindi anche alla luna per la sua origine, nella conchiglia, ha questa valenza femminile, sicché si diceva che favorisse la fecondità delle donne e aiutasse a mantenere nella bellezza e la freschezza giovanile. Ma diciamo che la sua bellezza unita al candore ha ispirato anche il simbolo della perfezione, quindi dell'unità originaria. Per questo motivo il Cristo, come narra Matteo, dove dice il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Anche nella cultura popolare è diventata la metafora di ciò che è stimato e pregiato, in una persona esemplare si dice per esempio è una perla e quando è ancora nella sua conchiglia la perla evoca il simbolo della conoscenza che si può ottenere solo con uno sforzo, riuscendo ad aprire metaforicamente le due valve che la racchiudono. E questa conoscenza non può essere divulgata indiscriminatamente a tutti, come già scriveva Platone nella settima epistola e come ribadì il Cristo nel discorso della montagna dicendo non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle ai porci perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino a sbranarvi. Una volta la si prescriveva in polvere diluita in olio di tartaruga e limone e serviva per curare la pelle, per curare le malattie degli occhi e disturbi anche ginecologici. La perla bianca polverizzata e posta sotto la lingua si diceva curasse l'ulcera, quella gastrica. Quella nera invece pare attivi sulla zona sacrale l'energia sessuale. Poi c'è la perla rossa che posta all'altezza del cuore favorisce, pare un'apertura verso gli altri e un'evoluzione armonica e quella giallo crema propizia invece la concentrazione e la lucidità nelle scelte. Adatta ai pesci e anche un'altra gemma di origine organica che è il corallo, spesso e volentieri soprattutto per le persone che hanno determinati tipi di transiti, io la consiglio molto associata di più a Marte, soprattutto quello rosso, perché in un certo qual modo è legata all'aspetto marziale, ma se devo associarla anche a un segno d'acqua, come ho già spiegato in quello dello scorpione, tendo a spingerla anche in quella direzione, vista la stella Antares di colore rosso che c'è nella costellazione suddetta. Tornando al cristallo principale di questo segno è l'acqua marina, appartenente alla famiglia del Berillo e pare che i migliori esemplari, perlomeno in Europa, provengano dall'isola d'Elba. Il colore che la caratterizza è il tenue verde-azzurro, è determinato dalla presenza di traccia di ferro, nel Medioevo veniva usata per correre le infiammazioni della gola, ridotta in polvere finissima, serviva anche come collirio. Oggi si è accertato che posta all'altezza della tiroide contribuisce ad armonizzare l'attività, ma è anche utile nella cura delle allergie, delle riniti, dell'asma appoggiata alle palpebre, sembra migliori anche la vista. Si consiglia ai nati nei pesci anche l'ametista, che appartiene alla famiglia dei quarzi cristallini e deve il suo colore violetto alla presenza del reticolo cristallino di traccia di ferro. Posta sul capo, pare, stimoli la concentrazione e l'introspezione. Sotto il cuscino contribuisce a rendere il sonno più profondo e tranquillo e, appoggiata alla radice del naso, cioè tra le sopracciglia, promuove la sobrietà, come indica anche il suo nome che proviene dal greco ametistos, cioè contro l'ubriachezza. Siamo nel regno dei pesci, stiamo con Nettuno e uno di simboli di Nettuno è l'alcol, quindi è assolutamente centrata. Dal punto di vista psichico produce con il suo colore un senso di leggerezza e di tranquillità, favorisce anche spiritualmente la crescita interiore, la lungimiranza, la preveggenza. Per quello che riguarda l'essenza astrale dei pesci, in generale il glicine, però ogni decade ne ha una specifica. Per la prima è il gelsomino, per la seconda è la peonia e la terza è la zagara. Una parentesi sul pianeta Nettuno, che è il dio che informa il segno dei pesci, scoperto nel 1846, periodo di rivoluzione di 164 anni e 79 giorni, cioè periodo in cui impiega a girare attorno al sole e gli astrologi giustamente l'hanno considerato come dimora quella di pesci. Nettuno in astrologia simboleggia la materia originaria, indifferenziata, le acque primordiali oppure la fusione finale. È l'archetipo dell'integrazione, della dissoluzione universale. Simboleggia anche la ricettività passiva, che si manifesta con l'ispirazione, l'intuizione, la medianità, la veggenza, le facoltà sovranormali, ma può anche rovesciarsi nell'utopia, nella follia, nella perversione, nel fanatismo. Contiene una gamma di variazioni caratteriali che hanno come comune denominatore la confusione dell'io e del non-io, dell'adesione a quello che può essere definito il flusso del tempo, del sentimento di una profonda appartenenza a una razza, a una casta, a una classe. Questo pianeta governa il subconscio e può provocare anche depressioni, manie, addirittura anche malattie mentali. Spesso e volentieri nel tema natale, quando è associato alla luna, ci parla di una mamma che ha avuto problemi psicologici. È il dio che informa il pianeta e Poseidone, dei greci, che è il Nettuno dei Romani, che era il dio dei mari, degli oceani, dei fiumi, ma anche delle sorgenti, dei laghi. Ed era una potenza ctonia da cui dipendevano, secondo la credenza popolare, i terremoti, poiché si favoreggiava anticamente che fossero suscitati dalle tempeste marine che scuotevano i continenti. Quindi anche qui molti associano il terremoto a Urano come scuotimento improvviso, ma in realtà arriva tutto da Nettuno. E per tale motivo venne proprio chiamato anche Enosigeo, ovvero scuotitore della terra. E c'è un inno omerico che dice Comincio a cantare Poseidone, possente Dio, scuotitore della terra e del limpido mare, Dio marino che regna sull'elicona e l'ampia Ege. Un duplice privilegio ti riconobbero gli dei, o Enosigeo, ad essere domatore di cavalli e salvatore di navi. Salve Poseidone, signore della terra, dalla chioma cupa, e tu, o beato, con cuore amico, soccorri i naviganti. Ecco, era sicuramente il protettore dei naviganti. Oggi questi naviganti possono essere le persone che hanno a che fare con il web, i naviganti del web. E mai come nel web, così come anche nel mondo dell'esoterismo che protegge e che presiede Nettuno, c'è così tanta illusione e inganno. Oggi guardare un video su internet non si sa più se è vero o se è falso. Quindi ci indica il suo malgrado che abbiamo a che fare con lui, anche nel web. Spesso e volentieri persone che hanno forti aspetti Nettuno, a volte si sono magari persi e non riescono più a ritrovarsi proprio come il Dio faceva fare nell'acqua del mare. E come personificazione appunto di queste acque primordiali, Nettuno incarnava il principio di fecondità. Gli erano consacrati il cavallo, il toro, il delfino ed era la criniere del primo, il mugito del secondo e la rapidità del terzo che procede saltando sulla superficie del mare. Sembrano visivamente simboleggiare le ondulazioni rumorose delle onde, di un mare in tempesta, di un mare fecondo. Veniva raffigurato con un tridente in mano, in piedi su una conchiglia, con bianchi capelli come le spume sulle onde, nudo o con un panno cilestrino colore del mare, svolazzante sulle spalle. Talvolta appariva completamente nudo, con la pelle verdeggiante come l'acqua del mare e una corona bianca in capo, simbolo anche essa della spuma delle onde. Spesso era accompagnato dalla sposa, che si chiamava Anfitrite, ed ha un codazzo di tritoni. Filostrato dice poi di Nettuno che ei va per lo mare tranquillo e quieto, sopra un gran conca tirata da balene e cavalli marini, avendo in mano il tridente, qual dicono alcuni che significa gli tre golfi del mar Mediterraneo che vengono dall'oceano e secondo altri dimostra le tre nature delle acque, perché quelle dei fonti e dei fiumi sono dolci, le marine sono salse ed amare e quelle dei laghi non sono amare, ma neanche grate al gusto. I suoi cavalli marini avevano la parte posteriore a forma di pesce, come ricordava anche Stazio, che dice, varcando il mare Geo, Nettuno in porto o mena gli affaticanti suoi destrieri, che al capo il collo il petto e lungi e prime andi cavallo cubidisce al freno e sono del resto poi guizzanti pesci. Grazie per l'ascolto.